Sì, no, un altro barcolla di brutto. Oh, danno Paola. Io non ci vedo noi là. È vero, è stilissimo. Non mi sta in piedi. Ma andiamo nei pericetti. Sì, c'è un po' in piedi, non si può andare così, ma non si può andare così, ma non si può andare così, ma non si può andare così. Ma è qui morda?